Yeah! Dammi un po' di soldi! Ok. Non vorrei andare lì? Sì che voglio andare, e tieni anche tu. Perché dovrei venire? Per proteggermi. C'è poco da proteggere lì. Se è una trappola non avremo scappo. Che vuoi fare? Perché vogliono che vai lì? Sei pazzo. Lo sai? Tu pensi troppo. Questo non me l'ha mai detto nessuno. Comunque non ci andrei. E ci sei? Non mi piace. Guarda. Ok. Ok, facciamola finita. Andiamo lì e facciamola finita. È meglio non andare. Sono pagato per andare. Semplice. Allora andiamo, forza! Se dovessero sparare. Avvicinati a uno di loro. Un cicchino non sparerebbe mai su uno dei suoi. Andiamo! Dicono. Allora andiamo. Sì, dove siete? E voilà, tutto va bene! Tutto va bene! Il pacco va controler l'argento! Ma cazzo, non ci vedo, non ci vedo! L'avete voluto, vai! Bastante, non c'è il culo! Avanti, abbassiamoli tutti! Andiamo, andiamo! Tenite via! Nooo, pelle di puttana! Tenite via, presto!